È stata progettata dagli studenti della Facoltà di Ingegneria Industriale la slitta venieristica che servirà Maurizio Belli e Fulvio Giovannini per percorrere l'antica Via dell'Oro in Alaska. Gabriele Carletti. Questa singola rislitta con le ruote tra pochi giorni partirà per l'Alaska in carbonio e lega di alluminio e ad alto tasso di tecnologia percorrerà 1300 chilometri attraverso neve, ghiaccio e asfalto sulle tracce dei cercatori d'oro di fine 800. La sua forza motrice è rappresentata da questi due avventurieri trentini Maurizio Belli e Fulvio Giovannini. La trascineranno sci ai piedi attraverso il fiume Yukon fino a Ninana e poi lì dove il ghiaccio lascerà il posto all'asfalto monteranno le ruote per proseguire a piedi con la slitta che si trasformerà in carretto fino ad Anchorage. Una folle epica avventura iniziata 25 anni fa, proseguita in bici, in canoa, poi a piedi quest'estate al passo di Chilkut, narrato da Charlie Chaplin. La slitta con le ruote sarà la loro compagna di avventure, trasporterà cibo, attrezzature e tende proteggendo il carico dal freddo, dagli urti e dalle abrasioni. A progettarlo un gruppo di studenti del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento. Questa mattina la presentazione. Il viaggio nel Grande Nord inizierà invece il 22 febbraio. Impiegheranno due mesi e affronteranno temperature fino a meno 30, meno 40 con l'aiuto della sola forza fisica e della loro determinazione.